Palla 2, presa da Perù Bella palla, trovata libera la nuocenti Riconosce il vantaggio contro Manganello Entra e segna, numero 17, Veneri Buon movimento di palla Che pensa alla tripla, poi uno contro uno Prende un buon tiro Scarica Olajide che prende un'ottima tripla libera Pessa segno Attacco di Valdarno, palla numero 6 Attacca uno contro uno Ancora blocchi dalla numero 16 Libera sott'aria, la numero 10 Prende un altro, trova sola Olajide in mezzo all'aria Che usa i suoi centri Palla rubato da Ricci che corre in contropiede E metta a segno Un buon tiro sbagliato Ancora Soli, bel tocco per Sartuaro Passaggio con un po' di ritardo però Tripla per Valdarno, corta Inbalziano in attacco Buona palla, subito la tripla Messa a segno Prende la tripla Mette la tripla Ancora un'ottima difesa di Perugia Che concede un buon tiro Bella iniziativa di Vescovi Prende un tiro Ottimo scarico però della numero 10 Che prende parte in soprannominato Superiorità numerica Numero 17 Tripla Che ridà a Aquinardi Buon tiro di Aquinardi Ancora palla fuori Bell'azione di Valdarno 19 che gliela rifiutisce Ottimo taglio in backdoor Riesce comunque a scaricare fuori per Manganello Tripla A sorprendere l'avversario Ottimo tiro di Allogine Che poi prende Frazione di piede Non vista dall'arbitro È un numero di Vescovi Altro buon aiuto di Vescovi Che concede un tiro complicatissimo Soli a gestire Montaglio in backdoor Scarica Soli Che ritrova Vescovi Azione Mancora 6 secondi Buona difesa di Perugia Che concede un tiro complicatissimo Preso da Sartor Però non fischia l'arbitro Sfrutta subito Esce dai blocchi Aquinardi Altro ottimo Palla di Vescovi 25 secondi Mancherà 3 secondi Buona tripla Presa da Vescovi Segnata Il secondo Del quarto quarto Tripla Per Ollacide Vescovi Giulia Vescovi Sì scusate Buona tripla Presa Di Sfruttare i vantaggi che ha Trova il numero 0 solo Però riscarica il numero 19 Che prende la tripla Mette a segno Uno contro uno Ottimo Uno contro uno Di solo Morre a doppio Però trova il numero 19 libera Che prende la tripla E mette Il blocco di Sartor Cade la numero uno E prende un pallone Ottima palla per Aquinardi Che scarica Ollacide Che è un layup facile La tripla Cor lunga Ottimo rimbalzo Nel numero 7 Che mette a segno due punti Finisce qua la partita Perugia conquista La finale Valdarno sconfitta Dopo un'ottima partita Comunque Complimenti alla squadra di casa Festeggiano tutte Le giocatrici di Perugia